Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è lunedì 7 luglio, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con il Papa Molisani, brava gente. A sorpresa durante l'Angelus di ieri, Bergoglio ha ringraziato per l'appassionata accoglienza ricevuta. Un Papa infaticabile che ha avuto una parola per tutti senza lesinare frecciate ad una classe dirigente, richiamando l'attenzione sulla drammatica carenza di lavoro, soprattutto fra i Giovanni Molisani. Ieri mattina, davanti alle 100.000 persone che hanno assistito all'Angelus Domenicale in Vaticano, Papa Bergoglio ha ringraziato tutti i molisani per l'accoglienza ricevuta il 5 luglio. Un onore che conferisce un valore aggiunto alla giornata che mette a sigilio un'organizzazione impeccabile in ogni sua fase. E ancora i detenuti scomunicati rinnegano la messa alla provocazione degli indranghetisti nel carcere di Larino. Monsignor Bregantini, l'andrangheta, la conosce molto bene essendo stato vescovo della Locride. È stato proprio lui a comunicare che i detenuti mafiosi del carcere di Larino stavano attuando una provocatoria forma di protesta. Niente messa dato che il Papa li aveva scomunicati. E poi lo sport serie D, campo basso sul forte mediano ex Taranto-Giorgino, ancora oggi l'assemblea dei soci dell'Olimpia agnonese. Motori Emanuele II e Liguri alle spalle di Venanzio e calcio a 5, Venafro calcio a 5, Giglio Fiorito nel Mireno di Franco in serie A1. Controlliamo anche le pagine interne. Lab, inaccettabili tagli alla sanità. Intendiamo essere parte attiva nella discussione su un tema così importante. Il movimento fondato da Michele Durante contesta duramente le politiche intraprese sul tema della salute. E poi FLC-CGL si discuta coinvolgendo le parti sociali. Il sindacato sulla scuola altro che merito si mandano a casa i precari. E ancora l'ordine dei giornalisti, oggi l'incontro su deontologia e organismi di categoria. Ancora Petraroi ha subito il patto per il lavoro. Il Governo nazionale accolga la proposta lanciata da Papa Francesco. L'assessore regionale auspica che sulla scia delle parole del pontefice si diano risposte concrete. È il momento di far giungere le nostre istanze sui tavoli nazionali. E ancora organizzazione protezione animali troppi, 130 euro per ogni cane a calappiato. L'OIPA e il servizio mostra troppe carenze e chiediamo una verifica sulla spesa sostenuta. Controlliamo adesso primo piano Molise che titola con Papa Bergoglio ai molisani. Non vi dimenticherò mai il saluto durante l'Angelus di Piazza San Pietro. Un pensiero particolare affettuoso. Mi hanno accolto nella loro bella terra e anche nel loro cuore. Grazie tante. E controlliamo anche le pagine interne di primo piano. In Vaticano da questa terra ha indicato la via a tutti i piccoli paesi del mondo a colloquio con Monsignor Bregantini il giorno dopo un evento storico. L'Arcivescovo di Campobasso, l'appello alla gratuità e fondamento di una nuova economia. Dieci ore di emozioni in 200.000 per Bergoglio. E ancora il ricordo prezioso di Maria. Gli ho chiesto un bacio e mi ha detto te ne do due nel Borgo Pio di Campobasso. In Vaticano mi avete accolto nel cuore, non lo dimenticherò mai, all'Angelus e il Santo Padre Saluta, la brava gente del Molise, precarietà e indifferenza in Piazza San Pietro, il no del Pontefice. Quello che resta fede, etica e dottrina sociale, i valori profondi dietro il richiamo alla dignità, la voce del Papa unita a quella dei lavoratori per un futuro di speranza. Adesso leggiamo insieme il quotidiano online in forma molise. Vediamo l'home page. Tra le notizie in primo piano, gli appuntamenti estivi in Molise, tradizioni, musica, teatro e folclore. Papa Francesco e molisani, persone in grado di accogliere in modo straordinario. E ancora a stile Bergoglio, effetto Francesco, il saluto dei detenuti del carcere di Isernia. Il saluto di benvenuto della direttrice del carcere di Isernia, Papa Francesco. E in ultimo il saluto di Monsignor Cibotti a sua santità, Papa Francesco. Passiamo adesso alla stampa nazionale. Leggiamo il quotidiano la stampa napolitano. L'Italia è finita se i giovani non hanno lavoro. Riforme, il PD ai 5 stelle, risposte scritte o inutile vederci. Flessibilità, settimana chiave, assunzioni ferme, ma le aziende non usano neanche i fondi stanziati. In retroscena Renzi vuole andare in Europa col primo sì sul nuovo Senato, senza dissidenti, ma con la Lega avrebbe lo stesso la maggioranza. E poi la grande guerra ridipuglia il sacrario di ogni caduto. Un'altra processione con l'inchino al boss Calabria. 15 giorni dopo la scomunica ai mafiosi del Papa, i carabinieri se ne vanno al fano rituali ributtanti. E ancora segni inquietanti e non casuali. L'Israele è arrestato gli estremisti ebrei per il ragazzo bruciato vivo. Passiamo adesso al quotidiano e il tempo, che titola con il business rifugiati finiti nelle baracche. Ospitalità a Roma, oltre 5 mila accolti costano 45 milioni l'anno. Ma c'è un esercito di invisibili in palazzi occupati e accampamenti. E poi ancora il dossier a shock sulle strade. Roma in testa alle classifiche. Un morto ogni 48 ore. Ieri è toccato a quattro ragazzi. Altre notizie. Il PD fa retromarcia sul vertice con i grillini. Il PD rischia di saltare l'incontro. E poi tra processi e rivolte, i giorni neri di Silvio, per Berlusconi settimana dura. Un SMS manda in tilt le elezioni al CSM. L'ex Ferri invita a votare due candidati. E poi il DNA scagione colleghi del Nox ucciso, sequestro Soffiantini. E poi la mafia contro il Papa. Processione e scandalo in Calabria. L'intervento la Chiesa non può più tacere. Il commento Francesco, l'identità e i conflitti. Passiamo al messaggero di Roma. Servizio civile, ecco la riforma. Il governo pronto a varare la legge per 100.000 giovani in tre anni. Già investiti 180 milioni. L'impegno durerà 12 mesi. E' emanato il primo bando. Selezione aperta. E' a immigrati e profughi. E poi Calabria shock. L'andrangheta contro il Papa scomunicati. Ma è più ammessa. La processione si inchina al boss. E poi il segretario della CEI, la Madonna, non si è mai inchinata. Crescita possibile. Investimenti in ricerca. L'Europa più flessibile. E' ancora la spesa pubblica tutta online. 800 miliardi senza più segreti. Cade il tabù della ragioneria. Il tesoro apre la banca dati. Azione di migliaia di pazienti. Infettati dalle trasfusioni di sangue. Un miliardo dallo Stato. Ma non paga. E' ancora Roma. La folle morte dei ragazzi in auto. Tragedia familiare a Perugia. Spara al figlio e alla ex. Passiamo adesso al quotidiano La Repubblica. Che titola con fondi europei. Il grande spreco da 7 miliardi. 500 mila corsi. Pochissimi posti. Napolitano. L'Italia finita senza il lavoro ai giovani. E poi la mafia. Sciopero della messa. La processione si inchina al boss. I detenuti affiliati dopo la scomunica. Non partecipiamo più. E ancora la copertina. America e il sorpasso dell'immigrato d'Oriente. Il Senato settimana decisiva. Allarme rosso per i dissidenti. Passiamo all'informazione economica. Leggiamo il Sole 24 ore. Pensioni sempre più leggere. Assegni di ribasso. Per chi lascia con i requisiti minimi. Penalizzati gli autonomi. Il nuovo rapporto della regioneria dello Stato. Sull'andamento delle prestazioni previdenziali. Rispetto all'ultimo stipendio. E poi previdenza e PIL. La crescita può eliminare le iniquità. Il tax rate sulle imprese non arretra. Quattro società su dieci hanno pagato più imposte rispetto all'anno precedente. La fotografia su 300 mila bilanci. Il prelievo per le piccole e medie imprese. Arriva anche a superare il 40% degli utili. Giustizia civile e tribunali per le aziende in fase di assestamento. Ancora dichiarazioni. Unico alla cassa ultimo giorno per effettuare i versamenti senza lo 0,40%. Ricorsi e contro ricorsi. La guerra dei 30 anni con il fisco per un rimborso. E ancora l'Europa digitale. Un programma che procede a rilento da oggi a Venezia. La conferenza dell'Unione Europea. Carta di identità elettronica. Un privilegio per pochi. Il test dura dal 1997. La possiede un italiano su 20. E ancora la prova sul campo nei comuni. Vuole il documento magnetico. Venga il 29 dicembre. E ancora sugli investimenti esteri. Timi di segnali positivi. Bene MIA e private quality. Ma siamo indietro. Passiamo adesso alla gazzetta dello sport. Nibali l'Italia che vola maglia gialla al tour. Il commento adesso tutti devono fare i conti con lui. Splendida vittoria del campione tricolore. A Sheffield sorprende gli avversari con un allungo in vista del traguardo. Tappa e premato un avvio da sogno. E poi le semifinali. L'Europa tenta lo storico blitz in Sud America sfida tra mondi. Il personaggio, lo staff di Van Gaal, si è inventato cruel come pararigori. Orgoglioso di ciò che ho fatto in Italia. Un cambio simile nel Castel di Sangro di Iaconi. E poi l'intervista a Bierhoff. Questa Germania ricorda gli azzurri del 2006. Ancora cambiare o sparire i nostri giovani senza futuro. Da Boer utili le squadre DB. E ancora il mercato. L'Inter punta dei Pei. Ma attenzione a Pato. In ultimo Cerce verso il Milan Astori. Ora è un giallo. E questa era la nostra ultima notizia sportiva. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV. Buona giornata. Previsioni del tempo per lunedì 7 luglio. Prevale il bel tempo sulle regioni di sud-est. Grazie all'anticiclone sempre presente su Molise, Basilicata e Puglia. Cielo sereno o poco nuvoloso. Con qualche vellatura in arrivo verso fine giornata. Ventilazione debole e mari poco mossi. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Campo basso minima 18, massima 32 gradi. Isernia minima 18, massima 29 gradi. Termoli minima 22, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da... Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.